Giornata a profondo rosso per quanto riguarda il mercato delle cripto, ma non tanto per Bitcoin ed Ethereum, quanto per le altcoin che stanno soffrendo in maniera importante, con delle cripto che perdono oltre il 15% come Phantom per esempio, o altre criptovalute anche importanti che vanno fatto numeri importanti come Injective che scende di quasi il 10%, oppure cripto come anche Solana che si sta avvicinando drammaticamente ad un livello importantissimo, regge ovviamente più delle altre, ma comunque è una giornata di profondo rosso sul mercato cripto e altcoin. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta capitando a questo mercato? Soprattutto delle altcoin abbiamo visto Bitcoin essere ancora molto forte rispetto anche alla sua fase di debolezza, anche Ethereum tutto sommato è abbastanza forte, mentre il resto delle criptovalute ne dipende da quelle che andiamo a guardare. Cosa sta succedendo? E soprattutto oggi ci incentriamo su quello che è i grafici, quelli che sono i grafici delle altcoin, andiamo a vedere tutto quello che riguarda le altcoin, la loro situazione in termini anche di analisi ciclica e posizione, e già vi anticipo spoilerandovi questa cosa che l'attuale fase di ribasso non è così strana. Per quanto riguarda il mercato delle cripto in termini di analisi ciclica delle altcoin, non parliamo di Bitcoin, ma delle altcoin e anche questa forza relativa di Bitcoin che sta tutto sommato tenendo, ci sta alla grande anche in questo. Siamo arrivati a giugno, giugno mese, difficile ragazzi, ed è così alla fine il mercato l'ha dimostrato incredibile, ma ovviamente noi facciamo sempre delle ipotesi, poi bisogna sempre comprendere se effettivamente il mercato andrà verso quella direzione, giugno doveva essere un mese di passaggio da una fase ad un'altra, vediamo se sarà così, intanto abbiamo fatto la struttura, stiamo facendo le strutture di minimo, poi da qui in poi dovrebbe essere un cambiamento, dovrebbe esserci un cambiamento, vediamo se sarà veramente così, lo scopriremo sicuramente solo vivendo, e nei prossimi giorni però è interessante questa fase. Allora partiamo dal grafico che più di tutti mi preme vedere, anzi ragazzi questo è il grafico che vedremo tra poco, mi premeva far il punto della situazione sulla total market cap di Bitcoin rispetto alle criptovalute Ethereum compreso, quindi il vero atteggiamento della total market cap di Bitcoin che ancora al momento risulta essere una total market cap che tendenzialmente è in trend rialzista. Questa è la total di Bitcoin diviso le altcoin considerando che c'è all'interno Ethereum, se qui togliamo Ethereum probabilmente andiamo ad assistere a un incremento notevole della percentuale di Bitcoin perché è Ethereum che regge un po' Bitcoin dalla sua fase di pump. ed eccolo qui infatti che vi porto anche il grafico della dominanza di Bitcoin escluso, l'establecoin ed escluso Ethereum e siamo nell'ordine del 74,50%. E quello che però è importante andare a verificare è che comunque continua a mantenersi anche nel caso di questa dominanza il livello di resistenza che era lo stesso di giugno 2023. Quindi in sostanza da giugno 2023 ad oggi la total market cap di Bitcoin rispetto all'altcoin è rimasta sostanzialmente stabile anche se non consideriamo Ethereum più o meno la stessa cosa di qui perché qui siamo a ottobre 2023 non a giugno però anche in un contesto del genere vedete siamo vicini a dei massimi quindi in realtà ok Bitcoin è forte rispetto alle altcoin ma non così forte come all'inizio di questa fase di bull run. In realtà questo è un grafico che oggettivamente ci sta dicendo che l'attuale fase di debolezza per quanto riguarda le altcoin ci può stare ma il trend di Bitcoin, di forza di Bitcoin inizia a scricchiolare quindi qualcosa si muove secondo me in pentola perché non abbiamo dei up di un certo livello cioè non siamo rientrati in questa fase, stanno reggendo i livelli. Chiaro che se qui dovessimo breccare questo livello di resistenza in maniera importante saliremo all'interno di questo quadratone ad oscillare questo significa un disastro in termini delle altcoin io non la vedo ancora così consideriamo il fatto che tra le altre cose qui abbiamo un ciclo annuale della dominance di Bitcoin rispetto alle criptovalute iniziato a gennaio 2024 non è ovviamente nella sua fase calante perché siamo ancora in fase a metà quindi teoricamente dovrebbe raggiungere a momenti il suo massimo questo insomma probabilmente indicherebbe che una fase di massimo di Bitcoin rispetto alle altcoin dovrebbe arrivare a momenti che significerebbe anche che questa fase ribassista delle altcoin potrebbe durare qualche altro giorno in effetti rispetto a Bitcoin io adesso vi farò vedere anche un altro grafico che secondo me è molto rilevante che riguarderà solo le cripto altcoin escludendo ovviamente Bitcoin però di questa cosa bisognerà prenderne atto quindi questo grafico ci dice due cose ci dice due cose in maniera estremamente oggettiva uno, prima cosa ha raggiunto un livello di massimo importante che dura da un sacco di tempo e non riesce a romperlo quindi i rapporti di forza fra Bitcoin e le altcoin sono non arrivati del tutto però sono a un livello di stasi rispetto a quello che era qualche tempo fa guardate qui che cosa è successo per esempio e guardate qui in poi che cosa è successo tra le altre cose questa fase se noi andiamo a togliere anche ETH ci dice che in realtà vedete siamo in una specie di barra di congestione è anche vero che questo doppio massimo è pericolosissimo perché anche in questo caso basta un niente a breccarlo e Bitcoin se ne andrebbe qui nuovamente questo significerebbe una imponente fase ribassista per altcoin purtroppo questo è il significato di questo grafico però in linea di massima al momento ancora non è avvenuta questa cosa quindi stiamo parlando di dati futuri che potrebbero avvenire o no mentre il dato che ad oggi è avvenuto è che questo livello di resistenza sta facendo la resistenza e ancora regge quindi in realtà potrebbe fermare qui tutto il movimento perciò il dato che noi abbiamo è 1 la forza di Bitcoin rispetto all'altcoin inizia ad essere più normale quasi a non esserci più questo è un dato il secondo dato siamo a cavallo del ciclo annuale della Dominance che deve passare ottobre più o meno dovrebbe essere sì ottobre 2024 per andare nella sua seconda metà ma potrebbe appunto fare i massimi in questa zona per poi iniziare una fase invece ribassista una cosa del genere configurerebbe la famosa mini alt season che ci aspettiamo ed è quella lì che si sta cercando insomma di non dico prevedere ragazzi però di attendere analizzando i dati finora i dati non sono così anomali nonostante queste botte notevoli che prendono le altcoin che insomma oggi veramente stanno scendendo tanto vi dico anche una cosa un'idea tecnica parliamo così per esperienza di quello che sono queste fasi di estrema debolezza dei mercati e quando arrivano a livello ciclico rappresentano fasi di chiusura di cicli superiori solitamente una fase di ribasso costante con due o tre candele rosse molto pronunciate come per esempio queste che possiamo vedere su Solana ma erano più pronunciate forse quelle di altre criptovalute andiamo a vedere per esempio anche Uniswap che vedete ha fatto due candelone meno 11 e meno 9 quindi c'è un ribasso imponente nella giornata di oggi ho la stessa Injective che ha perso guardate qui bam 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 allora tutte queste fasi di ribasso pronunciate di solito di solito a norma di analisi ciclica corrispondono a chiusure di cicli importanti cicli di lungo periodo quindi più o meno cicli annuali questa cosa in effetti è possibile perché tanto è vero che esiste un grafico che noi possiamo andare ad analizzare oggi facciamo un video un po' più breve il grafico che noi possiamo andare ad analizzare per vedere questa cosa è la total market cap delle cripto esclusa la questione di Ethereum escluso Bitcoin ed escluse le stable coin in pratica depuriamo dell'andamento delle due leader re e regina del mercato cripto depuriamo dall'andamento delle stable coin che sono irrilevanti analizziamo la total market cap di tutte le altre altcoin quindi questo è il grafico rappresentativo di tutte le altcoin come l'SP500 questo è il crypto 3000 non so quanto saranno che riguarda solo e esclusivamente le altcoin e non è dipendente da Bitcoin la struttura dell'analisi di questo grafico dal mio punto di vista sancisce una struttura che sta andando a chiudere la fase ciclica qui c'è un po' un qui pro quo diciamo in questo caso ragazzi perché? perché c'è un problema di un ciclonomano che era avvenuto alla fine del 2023 fino a luglio circa del 2023 cioè questa lingua di Bayer che se noi facciamo ricadere nel ciclo successivo allora questa fase è un po' strana se noi invece lo facciamo ricadere sul ciclo precedente questa fase c'entra di più ora il concetto qual è? che qui questa struttura in pratica di questo ciclo facendolo corrispondere a circa 700 giorni è più corretto perché in realtà 700 giorni sono circa due cicli annuali standard e in caso sarebbero espressi da due cicli creati in questo modo uno da 3,36 uno da 3,50 che sono è vero hanno un minimo più basso qui al centro ma io ribadisco questo è un grafico estremamente rumoroso è un grafico fatto da criptovalute alcune delle quali hanno capitalizzazione ridicole è un grafico che è fortemente dipendente dalle cripto che sono legate agli exchange per esempio Binance Coin è dipendente molto da Solana questo grafico qui quindi la sua natura secondo me non è quella di essere sostanzialmente pulitissimo e iperfiltrato ma è quella di darci un'indicazione di massima da alcuni punti di vista che secondo me è rilevante per esempio qui siamo a dicembre 2022 gennaio 2022 c'è la fase in cui Solana crollava a picco per via del problema dovuto alla questione di FTX cioè siamo in questa zona di Solana quindi è anche vero che ok lì siamo andati ad avere il minimo ma siccome questo grafico ragazzi è fortemente dipendente da Solana perché abbiamo escluso Ethereum abbiamo escluso Bitcoin quindi poi le altre cripto quelle forti diventano molto importanti per questo grafico quelle che hanno tanta cap questa fase ribassista è strettamente dipendente da questa roba qui che è successa su Solana perciò in pratica io direi che la consideriamo come una zona di minimo ma dal mio punto di vista è più corretto utilizzare una canone ciclico che ci dice che questo è un annuale a se stante ribassista in barra di congestione come volete chiamarlo voi ma di riaccumulazione come volete chiamarlo voi se così fosse da qui è iniziato il nuovo ciclo annuale giugno 2023 per quanto riguarda le cripto e siamo in fase di chiusura del ciclo annuale 378 giorni se consideriamo le settimane proprio questa settimana e vi ribadisco anche una cosa che vi avevo detto tempo fa cioè il fatto che il minimo quello che avevamo toccato nella settimana di aprile 2024 se qui dovevamo fare la cosiddetta lingua di buyer a chiudere tutte queste strutture non doveva reggere doveva fare così per poi lanciare il nuovo ciclo ora morale della favola è previsto è possibile ribassi costanti anche nelle prossime settimane sì e no cioè una decina di giorni ancora è accettabile ragazzi ma oltre non è più accettabile quindi un abuse del genere secondo me sta in piedi fino alla fine di giugno ma da metà luglio in poi se qui scendiamo ancora tanto con questo grafico qualcosa non quadra a livello ciclico io credo che il altcoin le cripto in questo momento stiano segnando la chiusura ciclica annuale e molte sono in questa fase alcune sono in fasi diverse altre sono in questo tipo di fase per esempio andiamo ad analizzare l'altra regina delle criptovalute a parte Ethereum per esempio BNB ma anche Solana più o meno ha la stessa struttura se noi la andiamo ad analizzare in termini di analisi ciclica ci rendiamo conto che in realtà siamo tutt'altro che lontani cioè siamo molto lontani dalla chiusura di un ciclo annuale che in realtà qui vedete su Binance dovrebbe arrivare almeno a settembre 2024 questo a meno che non sta facendo cicli corti come effetto ha fatto Bitcoin all'inizio quindi cicli da 300 giorni quindi se va in chiusura verso luglio sta facendo una ciclicità ternaria come quella di di Bitcoin anche analizzando per esempio Solana abbiamo lo stesso problema su Solana si vedono un po' peggio le strutture cicliche perché Solana ha avuto quella fase difficile diciamo da inizio del eccola qui da inizio del 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 2023 e quindi insomma non si comprende qua dove è chiuso dove è stato chiuso l'annuale qui probabilmente sono due annuali messi insieme circa perché siamo già andati troppo oltre e quindi teoricamente 600 circa 700 giorni arriveremo a novembre 2024 quindi in realtà questa sarebbe una struttura a forma ternaria che sta facendo questo tipo di discorso allora su Solana dovrebbe essere questa la sua natura ciclica mentre su altre invece l'andamento è un po' più lineare quindi essendo che chiaramente siamo in un'ottica quella relativa alla alla totalità del mercato delle altcoin e ognuna poi la sua caratteristica intrinseca la totalità del mercato ci sta dando questa indicazione di un possibile annuale che dovrebbe chiudere in questa fase poi abbiamo un'altra fascia temporale che appunto è quella di settembre ottobre dove avremo sia Solana che magari BNB che potrebbero spingere questo grafico in sostanza è come se qui dovessimo fare una specie di minimo poi cincischiare un pochino e poi iniziare da qui una nuova fase una roba del genere sarebbe perché no estremamente appetibile da un punto di vista ciclico quindi dal mio punto di vista questa fase di bassista delle altcoin è una fase di chiusura di un ciclo di natura annuale probabilmente Bitcoin sta seguendo lo scenario numero uno di cui abbiamo parlato ieri è il venerdì secondo me è così non vi esprimo ancora voglio aspettare la fine di questa settimana però vi ho già fatto tutti i video recap andateli a vedere veramente più chiari di così non si può se anche Bitcoin seguirà quella strada indicherebbe comunque la fine di giugno metà di luglio per la chiusura di questa struttura e coinciderebbe anche con l'annuale in questo caso della total market cap escluso Ethereum e Bitcoin potrebbe essere quindi questa la schiappone finale di questa fase prima invece di vedere un atteggiamento diverso delle altcoin è stato un anno difficile ma l'anno difficile delle altcoin erano anche gli anni passati prima delle Burran non era per niente semplice in quella fase lì andatevi a rivedere tutti i grafici andate a risudiarvi tutti quelle analisi e quei dati storici che danno delle indicazioni molto chiare alcune crypto sono molto deboli come Matic per esempio e un po' mi danno da pensare perché probabilmente ci sarà un susseguirsi di alcuni criptovalute che supereranno altre i layer 2 in particolare lo stanno performando male vedremo di far chiarezza dopo la fine di questa fase secondo me il motivo per cui i layer 2 potrebbero performare male potrebbe essere collegato al fatto che saranno i layer 1 a subire secondo me l'influenza di un'aventura approvazione dell'ETF di Ethereum eccetera vedremo un po' questa cosa in linea di massima il grafico in questione che è un dato oggettivo ci mostra che questa fase di ribasso questa fase qui potrebbe essere la chiusura di queste strutture cicliche annuali la stessa identica che riguarderebbe lo scenario 1 di Bitcoin di cui abbiamo parlato avverrà non avverrà lo sa solo il futuro ma questo scenario va preso in considerazione nonostante nonostante le fasi di crisi e magari per molti di voi che magari hanno tante altcoin tante cripto di oh mamma mia che succede disastro a livello emotivo eccetera ragazzi purtroppo qui vengono incontro le analisi si fanno proprio per sopperire a questi problemi per evitare di trovarsi estremamente esposti in fasi del genere anche noi abbiamo un portafoglio di cripto in fase di accumulazione con un 35% circa accumulato per la prima volta sta segnando il segno rosso proprio in questa fase ma è un 35% di un portafoglio capite bene il senso della cosa noi dobbiamo accumulare ben vengano questi prezzi concettualmente il problema sarà solo alla fine cioè se la alt season non avverrà mai in pratica questo è la nostra scommessa se l'alt season non avverrà mai perderemo se l'alt season avverrà noi in questa questi prezzi li usiamo per accumulare quindi fa parte diciamo di questo gioco ovviamente accumulo solo con delle strategie ben precise ma in deep infatti ancora non siamo entrati quindi non è un consiglio finanziario non lo è non lo sarà mai ragazzi quindi non vi permettete a fare queste cose perché non sapete quello che state facendo se non siete formati detto questo in linea di massima ragioniamo su questi scenari non vi fate prendere dal panico in questi momenti ragionate sempre in base al vostro schema iniziale alla vostra strategia iniziale e seguite la vostra strategia iniziale e badate bene che è una strategia del compro e aspetto dieci anni non è una strategia ragazzi va bene può essere che vi renda semplice ragionare in questo modo ma io vi sprono sempre al contrario di molte persone diciamo che fanno diciamo anche youtube eccetera vi sprono sempre invece a studiare costantemente a leggere costantemente perché è l'unico modo per resistere a mercati di questo tipo al di là di queste cose perché ok è sempre facile concettualmente ragionare e dire ah ma io aspetto 27 anni e poi vedo come va però poi quando ci siete dentro e vengono le fasi di ribasso se non avete programmato un trading plan costruito con grande chiarezza vi verrà molto difficile sostenere questo tipo di ribassi a livello psicologico vi rovinate la giornata i mesi gli anni e non ne vale la pena mi raccomando ragazzi studio avanti ogni cosa almeno leggete qualche libro imparate a fare trading plan imparate le basi che è fondamentale ciao a tutti e vediamo che succede domani